malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene torniamo oggi a parlare del famigerato mess del quale io ormai parlo credo da anni si deve consegnare il tanto agognato prestito paracadute al fondo di risoluzione unico è un affascinante giro di parole una serie di termini complicati e tecnici che nasconde dietro questa voluta complessità i pilastri della cosiddetta unione bancaria con la minaccia incombente della dissoluzione ebbene qual è il segreto che che diciamo si nasconde dietro a questa premurosa necessità il fatto che questo fondo questo prestito paracadute privato a sua volta dei paracaduti statali dal primo gennaio risulta troppo esile per poter camminare da solo spingendo l'eurogruppo a sforzarsi dal 2018 per convincere controvoglia il mess a intervenire con modesti 80 miliardi questo fondo di risoluzione unico sembra una goccia in un deserto di crisi bancarie dove il mess una insolita entità bancaria ha il curioso ruolo di non prestare più soldi da anni e di perdere anzi 60 milioni nel 2022 inoltre la banca centrale europea ha lanciato un campanello di allarme sul settore immobiliare ma fortunatamente la riforma del mess sembrerebbe qui per salvare le banche non italiane da un apocalisse immobiliare insomma una cosa può essere data per certa l'ineguagliabile solidarietà europea sembra farsi vivo quando si tratta di affrontare i problemi soltanto di uno stato membro cioè i problemi di berlino della germania ma naturalmente tra le mille ragioni per respingere la ratifica della riforma del mess quella di cui vi parlo oggi è soltanto l'ultima goccia di un mare di follie che ho raccontato attorno a questo meccanismo europeo di stabilità che sembrerebbe essere un supereroe finanziario la vera questione a mio parere è il fatto che ci si dovrebbe interrogare invece sul perché falliscano le banche non su meccanismi di stabilità e allora capiremmo che le banche falliscono soprattutto quando parliamo di banche che operano al mercato delle famiglie delle imprese perché l'economia non riesce a rimborsare e perché non riesce a rimborsare i prestiti è troppo sbrigativo pensare che sia una questione sociologico psicologico le ragioni sono molto più gravi più profonde e derivano dal fatto che come io scrivo nei miei libri non siamo affatto in una crisi ma in un cambiamento deliberato e pianificato di sistema economico ecco perché propongo l'economia umanistica malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene